ragazzi buon pomeriggio video più atteso della settimana ciao mullà ciao nostro commento su questa presentazione giro italia fatta in maniera un pochino strana giorni alterni presentate le tappe dell'ungheria poi le tappe velocisti media montagna montagna allora facciamo un po di sintesi innanzitutto 21 tappe si parte dall'ungheria da budapest poi 3410 km sarà la lunghezza totale 51.000 metri di dislivello quindi comunque dislivello c'è poi ne parliamo 7 tappe per velocisti 6 di media montagna 6 di alta montagna e due crono e le crono hanno lasciato un po di amaro in bocca nei vari commenti che abbiamo ricevuto però non per te ma per diciamo la media della gente ecco poi faremo un altro video a parte sui commenti faremo anche una live penso probabilmente allora partiamo così vediamo subito le tappe questa è la partenza si parte da budapest la prima tappa allora il muretto di visigard l'anno muretto è la salita di 2 3 chilometri l'anno paragonata anche perché di più quasi 4 km la salita l'anno paragonata al poggio come pendenze medie indicativamente quindi la tappa non è lunghissima si parla di 195 km nemmeno corta chiaramente non è per velocisti e infatti si presenta giro è la tappa per io perché se la condizione è quella del poggio dell'anno scorso vince a mani basse no questa è la prima tappa direi insomma hanno cercato secondo me di copiare un po' tour de france di non dare la classica volatina scontata alla prima vabbè meglio dai sì meglio la prima tappa ci piace diciamo così seconda tappa è la crono tutta interna budapest 9 chilometri e 2 è una crono non è un prologo perché comunque la distanza c'è è chiaro che non è niente di stratosferico c'è 9 chilometri e 2 secondo me poi dimmi la tua massimo tra i big ci potranno essere 30 40 secondi non prevedo più di un minuto a parte uno come l'anda per esempio che potrebbe prendere anche un minuto no è vero è la verità dai c'è qualcuno qualche scalatore che potrebbe arrivare a prendere un minuto ok ok tappa 3 questa è la prima tappa per velocisti direi c'è poco da dire due sprint intermedi un gran piemettino della montagna quasi sul finale 201 chilometri tappa lunga ma banale direi no andiamo avanti primo arrivo in salita primo arrivo in salita si torna in italia quindi prima tappa italiana e subito arrivo in salita si spara l'etna l'etna che è una salita abbastanza non difficilissima come salita si è visto gli anni scorsi però è lunga è la prima quindi qualcuno è lunga è la prima qui come tutti gli anni e noi lo ridiciamo sempre ma lo ripetiamo perché ci piace come concetto qui non si capisce chi vincerà il giro ma si saprà chi non lo vincerà ho detto in un altro modo più terra terra qualcuno fa subito la botta qualcuno a qualcuno tocca è giusto comunque la tappa allora le prime critiche che sono arrivate nei messaggi che abbiamo ricevuto su instagram e su tutto il gruppo telegram sono stati ancora altre lettere ancora lettere che palle lettere però come prima salita è vero che in sicilia magari c'è anche altre salite però come prima salita lettere ci sta perché se vi ricordate bene negli anni 90 le prime salite erano montevergine ad esempio una che è una salita banale dove arrivavano un 40 oppure altre salite ad esempio anche la betone in toscana è una salita che non fa così tanta selezione l'etna secondo me è già più difficile come se è lunghezza ragazzi comunque 25 chilometri in tutto quindi questo è quanto poi quinta tappa e arriva a messina c'è solo un gran prima montagna niente di difficilissimo tappa di 172 chilometri e ci si avvia verso il passaggio sulla sulla penisola arrivando a messina questa è una tappa credo per velocisti a meno che non ci sia qualche qualche furbata tappa 6 tappa 6 anche qua scalea arrivo abbastanza banale qua non c'è niente da dire se non chiaramente ovviamente l'arrivo curve rotatorie possibile maltempo queste sono l'inside di questi percorsi perché a livello altimetrico poi nel senso le squadre sono ancora belle fresche e quindi probabilmente si arriveranno il gruppo è ancora bello potente allora prossima tappa si arriva a potenza allora qua e mulla ha trovato un dislivello attimetrico sopra 4000 metri e questo è da verificare 4.490 4.490 questo è da verificare perché sembra un po esagerato come dislivello comunque comunque c'è il dislivello in questa tappa 4 gran premi della montagna tutti abbastanza il più difficile a quella metà gara però gli ultimi sono insidiosi sono insidiosi soprattutto c'è quella lo strappo di potenza e prima dell'arrivo che potrebbe tagliare le gambe questa non è assolutamente tappo per velocisti io prevedo qua la classica fuga da 10-15 minuti infatti se gli uomini di classifica non si vogliono massacrare subito mandano una fuga a 10 minuti poi stanno tranquilli dietro anche perché mulla con la crono è già il primo arrivo in salita la classifica comunque è già non definita però c'è già chi deve stare davanti è già davanti quindi questa è l'occasione per perdere la maglia per dire ok lasciamo la maglia un'altra squadra per qualche giorno in modo tale da non sprecare la squadra questa è una tappa così probabilmente tappa 8 la tappa 8 una tappa insidiosa insidiosa la tappa di napoli questa è la tappa che in diretta l'altra sera con il ballero ho detto questa tappa per ballerini perché una tappa dove si farà selezione sono tanti murettini tanti scollettini e non credo che il gruppo arrivi bello bello unito a napoli poi non lo so è comunque questa è una tappa dal ballero è un circuito comunque resta di 19 chilometri è difficile nel senso impegnativa poi c'è un po ritorno nei circuiti è perché c'è quello di napoli e poi anche quello di torino se non sbaglio quindi un giro d'italia stra tanto si vedevano si vedeva una tappa intera di un circuito ripetuto quindi a me piace perché comunque da possibilità alla gente di vedere più volte i corridori si si è bene bene quindi un paio di circuiti ogni giro ci stanno vanno bene questo mi piace block house allora piazzano in diretta l'altro giorno ha detto la tappa del block house non farà la salita del block house non è così difficile innanzitutto diciamo che anche qui c'è l'antimetria un po forse farlocca 4.990 metri se fosse vera sembra un po eccessiva però se fosse vera c'è dislivello c'è perché la tappa con il secondo addirittura è superiore dislivello a quella della del passo fedaio comunque sono lì come dislivello quindi metri dislivello ci sono la salita finale c'è perché block house se vi ricordate nibali contro quintana quintana sta 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 con nibali dubu lempo fece un grande recupero arrivò se ne sbaglio secondo terzo in quella tappa è il giro che vince appunto dubu lem il block house è una salita è una salita abbastanza ansidiosa anche anche quella di anche passo lanciano lanciano non è malissimo non è malissimo secondo me questo finale a questo punto del giro potrebbe fare disastri 187 km tappa anche non cortissima e questa è una tappa molto molto interessante seconda arrivo in salita siamo praticamente quasi a metà giro non una tappa e quindi qui secondo me si già si delinea la classifica in maniera abbastanza importante tappa successiva qui siamo diciamo è la tappa di jesi dedicata a scarponi perché si passa da filo trano ci sono i muri appunto delle delle marche e ora non ci sono dei grossi muri e non aspettate punta al 20 per cento però è una tappa che dalla metà fino fino al traguardo presenta mai un pezzo di pianura e quindi qui è una tappa da fuga non prevedo grossi scossoni in classifica a meno che qualcuno non va male male sul block house e prova qualcosa ma questa la tappa da fuga credo fuga fuga poi 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 successiva siamo alla undicesima tappa e questa è la classica tappa noiosa da addormita sul divano c'è sempre c'è da addormita sul divano andiamo avanti va bene andiamo avanti la cista qui ci sta tappa successiva con l'arrivo a genova e abbiamo il montebecco che sarà diciamo il bandolo della matassa della tappa il caldello della tappa perché lì si potrà fare un po di selezione non credo che gli uomini classifica si daranno battaglia che pensi no fuga anche qui io prevedo tante fuga anche quest'anno poi magari mi sbaglio ma sono tante tappe adatte veramente attacchi da lontano in cui gli uomini di classifica non avranno voglia assolutamente di scannarsi ok ok quindi questa è la tappa di genova nulla prevede fuga io probabile anche io uguale sono nella solita opinione tappa successiva di cuneo arrivo a cuneo c'è una salita iniziale inizia nei primi 50 chilometri poi sostanzialmente piatta come tappa e qua prevede un arrivo in volata semplice praticamente è il percorso della milano sanremo del 2020 al contrario sì bravissimo che poi sì sì che tagliarono fecero un percorso alternativo perché anteriori che non facevano passare i comuni non volevano il passaggio della corsa al contrario e lo fanno al contrario sì sì poi tappa 14 questa è una delle tappe più interessanti del giro d'italia 2022 c'è veramente pochissima pianura si arriva a torino si scala due volte in pratica il il scolle di superga e che non è vicinissimo al traguardo si scaleranno altre salite sono tutte abbastanza impegnative non tutto lunghissime però una tappa molto molto insidiosa si supera i 3000 metri di slivello si fa 3470 metri di slivello qui può succedere qualcosa secondo me non lo so come la vedi la vedo che qui chiaramente ci sono diverse tappe così non di montagna no però molto impegnate qui se si danno battaglia succede davvero qualcosa qualcosa di importante altrimenti lasciano andare la fuga a 10 minuti cioè ci sono queste alternative qui qualche volta succederà questo e qualche volta succederà assomiglia sa assomiglia alla tappa della nove colli dell'anno scorso al giro che forse è quella che ha vinto bettion comunque assomiglia alla tappa che ha vinto bettion con tante salitelle tanti strappettini e dietro non successe nulla se ti ricordi bene dipende dipende capito da chi atteggiamento probabilmente in qualche tappa così faranno in un modo in qualche tappa faranno un altro ok poi tappa successiva è la tappa numero 15 questo è il terzo arrivo in salita però onestamente qua io la reputo la tappa più facile forse anche più facile di quella dell'etna perché la salita di cogne è una salita di media 3 4 per cento e non si staccherà nessuno l'unica e la salita più dura è la prima delle tre però è distante guarda perché siamo a 105 chilometri ci vuole una crisi è da fare nel 72 quindi se a 70 km all'arrivo potrebbe esserci cogne potrebbe essere un arrivo che se qualcuno si stacca nella prima o nella seconda salita di giornata su cogne allora se uno accompagna di squadra davanti lo stacca bene bene però ci vuole una crisi non la fai a differenza su queste su queste pendenze no 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 deve succedere qualcosa nelle prime due salite sennò la parte di cogne non farà selezione però sono comunque metri di dislivello 4000 metri di dislivello che si vanno 4030 che si vanno accumulare nelle gambe dei corridori per la tappa del giorno dopo per la tappa del giorno dopo che la sedicesima giorno dopo ora non mi ricordo se c'è giorno di riposo comunque la tappa successiva è la tappa dell'aprica allora questa tappa apre un po di scenari ovvero io sono rimasto deluso perché all'inizio vidi ho visto il mortirolo infatti non mi tornava sto teglio li ho detto cavolo come fanno a farteglio se fanno un mortirolo da ammazzo in valtellina e poi santa cristina allora questa tappa qui è una tappa che mi fa un po incazzare perché questa tappa qua se la vuoi mettere e secondo me un anno sì un anno no ci vuole mi metti gavio ostelvio mortirolo da ammazzo in valtellina passaggio aprica santa cristina arrivo aprica questa è la tappa stop sono 200 chilometri secchi e basta è chiaro che se devi partire da salò andare a fare lo stelvio è impossibile diventa lunghissima però secondo me sul gavia ci si poteva provare scendevi giù da a bormio andavi a fare lo stelvio da ammazzo da mortirolo da ammazzo in valtellina scendevi giù aprica santa cristina aprica questa è un po diversa come tappa allora il mortirolo io l'ho fatto il mortirolo da questo versante di monno di edolo che poi monno è duro solo gli ultimi tre chilometri poi la parte diciamo centrale iniziale non farà selezione la salita del teglio è una salita duretta e pendenza media 8 9 per cento con alcuni tratti al 10 è una salita che hanno fatto spesso nel giro dei dilettanti poi dopo il santa cristiana santa cristina viene fatto in pratica dal versante di di tirano quindi il santa cristina la parte finale rimane quella storica del 99 del 94 94 vinse pantani nel 99 vinse tonco su no nel 99 vinse eras su simoni e gotti la seconda parte la è identica la prima parte del santa cristina viene fatta da fondo valle di tirano quindi non dall'aprica quindi diventa una salita più lunga e pendenza media si avvicina intorno al 10 per cento quindi qua in questa tappa la selezione si farà sul santa cristina non si perché col mortirolo che è ottenuto a più di 70 chilometri da guardia ci vuole veramente oggi come oggi c'è tutto c'è tutto il fondo valle c'è tutto il fondo valle prima di arrivare sulla salita di teglio quindi comunque anche fuga sicuro non lo so non lo so però certo per cento bisogna dire che questa tappa è la tappa con più dislivello in assoluto 5440 metri dislivello e questa si farà sentire se non farà tantissima selezione si farà sentire poi successivamente ricordiamo che il santa cristina è storico perché pantani ha staccato miguel indurain su quella salita aveva già staccato prima sul mortirolo però poi rientrò indurain e pantani poi lo staccò insieme al caccarito rodriguez nella salita del santa cristina riguardate la tappa il 94 perché tanta roba forse una delle tappe più belle in assoluto tappa successiva allora qua è una tappa molto simile alla precedente c'è molto dislivello anche qua si va è la tappa numero 17 se non sbaglio si attenzione questa tappa da attenzione si arriva al lavarone che ne dici qui qui cosa può succedere qui si fa la salita del manador ok menador mena menador che ha una pendenza media superiore al 10 per cento è una salita molti dicono tosta 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 molto stretta strada poi viene un'altra tappa dura e quindi sarà battaglia dai qui questa è tosta è una tappa tosta si passa si parte col passo del tonale inizialmente non è una salita difficile poi sono impegnativi vedi tutte cioè ci sono le salita sono impegnativi anche questi tratti no interlocutori vedi che sono parecchio mossi mi sembra un percorso parecchio mossi quindi cioè non c'è tempo tanto tempo per rifiatare no e quindi sono impegnativi dai sono tappe belle cioè non c'è tanta quota però ci sarà tanto tanta lotta anche perché poi questa salita nel manador tutti i ragazzi che ci hanno scritto in chat che sono della zona dicono che è veramente veramente tosta quindi attenzione anche perché poi la tappa della prica viene subito dopo il giorno di riposo e questa qui è successiva alla prica quindi non c'è pausa tra le due tappe quindi mortirolo santa cristina arriva a prica e questa con menador e l'arrivo alla varone sono due tappe successive consecutive quindi qui si decide giro d'italia per me si decide che probabilmente le squadre che ci saranno e che saranno i big secondo me sarà un giro in cui sarà veramente difficile mantenere il controllo da parte di una o due squadre sarà la start list farà farà la differenza e quello è chiaro tappa interlocutoria con arriva a treviso questa l'occasione per i velocisti anche perché poi se non erro non ce ne saranno altre quindi questa tappa qua è stata messa probabilmente perché un velocista tre tappe dalla fine il giro lo finisce in teoria quindi se arrivi qui il giro poi lo porti a casa anche perché poi la tappa successiva è una tappa impegnativa ma relativamente c'è l'ultima salita che è il santuario di castelmonte è una salita abbastanza impegnativa corta pendenza a doppie cifre però è una salita corta questa qui è una tappa alla vuelta di spagna no come come tipologia di tappa queste tappe si vedano alla vuelta si dicono dicono anche qua con lo scolli con diciamo il passaggio in slovenia che il colovrat colovrat se non ho letto male una salita molto molto impegnativa è chiaro che però rimane a una quarantina di chilometri all'arrivo non lo so io prevedo che quasi sarà una sparata nel finale a decidere il vincitore della tappa però non è una tappa così impegnativa di solito siamo abituati a altre tappe come come terz'ultime tappe del giro comunque tappa finale che poi sarà l'ultima sarà la crono la tappa la tappa la tappa qui non c'è da dire niente questa tappa c'è solo da dire che ne avrei preferite almeno due o tre così dato che è un giro così disegnato con poca cronometro allora avrei preferito più tappe con la quota però è l'unica critica questa è l'unica tappa che supera i 2000 metri di altitudine in due punti passo pordoi che sarà la cima coppie del giro d'italia e la marmolado 2057 e san pellegrino ci va vicino a 1918 e questa è la tappa è chiaro che allora è molto semplice il problema è che gli anni scorsi lo stelvio si è fatto per rotta di collo è stata annullata la tappa successiva o comunque è fatto la doppia scalata al sestriere se non vado errato per problemi di maltempo e di neve l'anno scorso è saltata tutta la tappa dolomitica che era una tappa simile dove si faceva all'incontrario se non erro marmolada pordoi e se arrivava sul giau per arrivare a non mi viene il nome la tappa che ha vinto Bernal ti ricordi cortina da un pezzo forse se non sbaglio comunque va bene vabbè la tappa con discesa che praticamente si vide solo il giau e si vide per modo di dire perché c'erano al tempo il problema di queste tappe è che rischio neve rischio maltempo è un problema quindi io spero che comunque comunque si fa il 28 maggio e quindi dai si spera che vuole un po' di fortuna dipende sai perché tipo nel giro del 94 che ogni tanto riguardo così per rinfrescarmi la memoria erano tutte tappe difficilmente con brutto tempo e si scalò lo stelvio prima del mortirolo quindi insomma salvivo a 2.700 metri di slivello e sera a maggio anche lì quindi boh ed è veramente io spero che da qui in avanti qui siamo praticamente a giugno però ci vuole un po' di fortuna ci vuole un po' di fortuna e io spero che il colle delle finestre il colle dell'agnello l'iso hard tutte queste salite che si possono fare al giro d'italia e si devono fare vengono riproposte negli anni successivi perché si possono mettere tante tappe sotto 2.000 metri però questa tappa vi ci vuole ragazzi però la quota è più bella la quota è più bella è rischiosa ma bella sì il San Pellegrino è una salita difficile questa non l'ho fatta è una salita comunque abbastanza tosta il Pordoi fatto da Canazzei è una salita che nella prima parte è in comune con il Passosella poi dopo c'è il Bivio e gli ultimi 6-7 chilometri del Pordoi sono abbastanza impegnativi ma 6-7% non è una salita impossibile poi si scende giù a Valle si arriverà a Caprile a Roccapitore e da lì si inizia la lunga salita verso la Marmolada sono 14 chilometri la prima parte è pedalabile si fa da Malga Ciappela o Ciappela come si sono solo bestemme ma proprio veramente no sallucinante soprattutto da Capanna Bill diventa ancora più difficile perché c'è i tornanti dici te vedi tornanti ok diminuisce la percentuale no sempre al 15% quindi come inizia Malga Ciappela sono bestemme fino al traguardo qui si decide il Giro d'Italia ma la mia paura è che qui il Giro sia già deciso poi non lo so eh vediamo vediamo secondo me sarà molto aperto invece questo Giro qui si fa veramente selezione qui si fa veramente selezione questa è la tappa ok e questa è la crono finale crono di Verona con il famoso strappettino delle torricelle salita riproposta al Mondiale più volte salita non impossibile abbastanza penale no per niente proprio sì sono 4 chilometri scarsi insomma cronometro 17 chilometri deluso da questa cronometro deluso sì sono contento allora giudizio su questo su questo Giro partite in Bulla come come lo vedi il giudizio è buono è buono perché c'è tanta salita tante tappe impegnative poca cronometro e quindi io l'apprezzo l'unica critica l'unica piccola critica come ho già detto è che avrei preferito un po' più di quota quindi una tappa come quella della marmolata magari replicata almeno un'altra volta diciamo dalla parte Piemonte-Valdavosta comunque sì dai almeno due tappe così ancora almeno due dai solo solo questo però giudizio complessivo è buono tanta salita e poca crono non potevo chiedere di meglio allora è un giro che Venni ha dichiarato come tutti gli anni fanno diciamo chi disegna i grandi giri che è questo è quello più duro degli ultimi 40 anni sicuramente i metri di dislivello ci sono io vedo tante tappe intermedie insidiose ce ne è 4-5 veramente insidiosi la di Napoli Potenza Torino ce ne è tante gli arrivi in salita nella prima parte l'Etna e il Blockhouse ci stanno ci stanno come a volte è stato messo in gran sasso cioè salite impegnative ma con tappe non impossibili quindi per delineare un po' la classifica le delusioni il tappone dolomitico cioè secondo me mettere due tappe una nella parte Piemonte-Valdavosta e una nella parte Trentino che si va sopra i 2000 metri va bene però se mi metti la tappa del Mortirolo allora una delle due mi può anche saltare saltare quella dolomitica o quella Piemontese-Valdostana e quindi ci sta che hanno fatto solo i Dolomiti e il Mortirolo il problema dove sta? sta che la tappa del Mortirolo è sì tanto di slivello ma io preferivo la tappa classica Stelvio-Gavia Mortirolo è stato fatto per esigenze meteorologiche credo di sì perché viene fatta comunque 5-6 giorni prima rispetto alla Marmolada quindi vogliono dire questi 5-6 giorni quella è la prima delusione relativa perché poi comunque la tappa è 5400 metri quindi è tanta roba comunque la tappa il Santa Cristina farà selezione e la delusione solo e cronometro perché dal mio punto di vista un grande giro deve avere quantomeno 50 km a cronometro complessivi se non 60 io la vedo così no io metterei dal mio punto di vista metterei due crono in un giro oppure fai un prologo e altre due crono e le fai un pochino più corte però in totale dai 50-60 km con l'ultima crono che non deve essere l'ultima crono ma deve essere prima delle due tappe finali di salita ma senti ma a qualcuno può non piacere la cronometro allora ogni tanto facci godere anche noi no a te non piacciono e va bene quindi te sei contento di questo giro ti manca solo una tappa in più su 2000 metri ok però c'è la tappa per l'atmosfera perché la quota da un'atmosfera particolare che si vede anche alla tv si vede si percepisce è vero quello è vero quello è vero io sono d'accordissimo al 100% io non lo so la crono di Verona è una delusione 17 km alla fine cioè è un giro per scalatore e va bene però è anche bello vedere comunque lo scalatore che si difende a crono e cerca di recuperare in salita da chi magari gli ha dato un minuto a crono quello mi piace vedere ma li prendono uguale un minuto no ma in questa maniera qui il passista scalatore al giro non ci viene il ecco il Roglic tanto non ci sarebbe non ci sarebbe uguale va bene va bene però il Roglic a un giro del genere farebbe un po' fatica secondo me peggio per lui non è un giro proprio disegnato per lui il Dumoulin di qualche anno fa farebbe fatica in questo giro d'Italia questa è la mia sintesi volevo un pochino più di crono però e la tappa del Mortigono fatta un po' diversa però il giro complessivamente è buono dai è bello 7 e mezzo mi piace di più il tour sono onesto al tour vi do un mezzo punto in più però no io no io ho un bel voto anche 8 a questo giro ragazzi fateci sapere voi cosa pensate di questo giro d'Italia e quale tappa vi è piaciuta di più quale non vi è piaciuta se anche voi la tappa è in Mortirolo la volevate un pochino diversa se siete contenti come il Moulin dei pochi chilometri al crono oppure come me se siete un po' delusi da quest'ultimo cronometro e ne volevate un paio magari una alla fine della prima settimana e una prima delle prime due prima delle ultime due tappe dell'ultima settimana detto questo seguitici sull'account Instagram che lo sapete ci hanno cancellato l'account se è riaperto infatti sotto vedete Fantasaki in tantino basso official gruppo Telegram gruppo Facebook e chi più ne ha più ne metta Moulin ciao arrivederci